Bentornati a questa puntata di Chiedi da Paolo, oggi leggiamo la mail di Claudia Buongiorno Paolo, grazie per i consigli che ci dai, oggi voglio chiederti un consiglio sulla farcitura della pizza Come potrebbe essere valorizzata Claudia? Beh Claudia, ci sono tanti modi per valorizzare la pizza, ultimamente c'è questa moda di fare gli impasti alternativi chiamati è una cosa abbastanza valida, nel senso che io posso andare a dare più profumo, più sapore alla mia pizza partendo già dall'impasto, tu sai benissimo che la pizza è fatta dal 50% di impasto e 50% delle farciture quindi impasto puoi scegliere tra i tanti impasti alternativi ma non ne tenere tantissimi in pizzeria massimo tieni il classico che tu fai sempre, più magari due impasti a scelta alla settimana poi magari puoi variare anni di settimana altra cosa importante sono le farciture, quindi in base anche all'impasto che io vado a fare devo andare ad abbinare degli ingredienti freschi di stagione che si abbinano bene anche al sapore della pasta cioè se faccio una pizza integrale con un impasto integrale non ci vado a fare una margherita perché l'acidità del pomodoro tenderebbe a nascondere quelli che sono i sapori della pizza stessa quindi anche dell'impasto quindi magari se vai su farine poco raffinate io ti consiglierei di andare su pizze bianche o magari con filetto di pomodoro san marzano quindi non frullato ma tagliato semplicemente a coltello e altra cosa importante da tenere in considerazione è che su ogni pizza ci deve stare una crema una cosa morbida, quindi un prodotto masticabile morbido e un prodotto croccante che dia quel senso di croccantezza se ci sono queste tre cose la pizza risulta essere veramente eccezionale e quindi vai a valorizzare sia il condimento, quindi la farcitura, sia l'impasto fammi sapere Claudia se il consiglio è stato quello giusto continuate a scrivermi a pizzachiocciolapaolopriori.it ci vediamo sabato prossimo, ciao! grazie